Il caso Coingas a multiservizi finirà di fronte al GIP il prossimo 23 marzo. È stata infatti fissata l'udienza preliminare per i 13 imputati per i quali il procuratore Roberto Rossi, che ha ereditato il fascicolo dal PM Andrea Claudiani dopo il trasferimento di quest'ultima Perugia, ha chiesto il rinvio a giudizio, tra questi, come ormai noto, anche nomi di spicco della politica retina, chiamati a comparire con varie ipotesi di reato, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, dal favoreggiamento al peculato. Tra gli imputati c'è infatti il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'assessore Alberto Merelli, ma anche il presidente di Estra Francesco Macri e quello di Arezzo Casa Lorenzo Roggi. La procura poi ha chiesto il rinvio a giudizio anche per l'ex presidente di Coingas a Sergio Staderini e per l'attuale Franco Scortecci, un'inchiesta complessa avvenuta alla luce nell'estate 2019, data dalle consulenze, d'oro le definisce l'accusa, affidate da Coingas allo studio legale Razon e al commercialista aretino Marco Cocci. Nel corso delle indagini poi la Digos scovò nel PC dello stesso Staderini decine e decine di file audio registrati di nascosto riguardanti colloqui tra i protagonisti della vicenda e dai quali presero così avvio altri filoni d'indagine. Lo scorso dicembre infine l'interrogatorio doppio per Sergio Staderini, nel quale l'imputato personaggio indubbiamente chiave della vicenda ha dato al procuratore la sua ricostruzione dei fatti. Adesso il giudice Claudio Lara, al termine dell'udienza preliminare fissata per il prossimo marzo, dovrà decidere se mandare tutti a processo come chiesto dalla procura oppure no.